Sono tre le tende da campo allestite dall'esercito italiano all'interno delle piscine Vigor sulla litorania di Salerno, dove da questa mattina i medici e il personale dell'ASL sono al lavoro in maniera frenetica per lo screening di tutte le persone che dovranno effettuare il tampone. Inizia così presso l'USCA di Salerno la nuova attività assistenziale attivata ufficialmente da oggi per smaltire il carico di lavoro fino ad oggi effettuato solo all'USCA di Lancusi, dove si registrano code e lunghe file di attesa. Da domani parte anche la postazione Dravin, dove i sospetti covid o i poco sintomatici potranno recarsi attraverso la propria vettura e sostenere l'analisi che dovrà dire se hanno o meno contratto il contagio da coronavirus. Nel frattempo già questa mattina il personale dell'ASL di Salerno nella struttura delle piscine Vigor che è stata messa a disposizione dal comune di Salerno ha iniziato a selezionare i nomi dei cittadini che dovranno sottoporsi al test, dando un ordine cronologico e di priorità. È importante ricordare e ribadire che non ci si potrà rivolgere in maniera volontaria all'USCA, ma potranno essere sottoposti a tampone soltanto i sospetti che verranno contattati dall'ASL su indicazione di operatori sanitari o medici di famiglia. L'USCA dovrebbe risolvere uno dei principali disagi lamentati in queste ore sul territorio della provincia di Salerno, la difficoltà anche ad effettuare un tampone per verificare la positività o anche la guarigione. Anche il comune di Pellezzano rientra in questo distretto sanitario. Il sindaco Francesco Morra ha ricordato che il servizio è gratuito ma che bisogna avere la prescrizione di un medico. Arriba a dire che non ci si può rivolgere volontariamente all'USCA. È stata questa mattina anche il consigliere comunale Pachimemoli, promotrice dell'attivazione dell'unità assistenziale di Salerno. Questa è un'unità speciale di continuità assistenziale ed è un organo sanitario che nasce di concerto con la medicina di base e con la pediatria nell'assistenza del paziente covid positivo sia sintomatico che asintomatico che viene eseguito a domicilio. Quest'organo è fondamentale in modo tale da poter sostenere questi pazienti ed impedire che ci siano ricoveri inappropriati in ospedale. È un esempio molto bello di sinergia tra le istituzioni, tra il comune e l'ASL. Quindi questi medici, questi operatori sanitari che fanno parte di questa USCA lavorano come dicevo di concerto con la medicina diciamo di base, vanno a casa a visitare il paziente e quindi dalla situazione clinica decidono se il paziente può essere seguito a caso oppure in ospedale. Da domani parte anche la possibilità di effettuare il tampone drive-in. Spieghiamo però e chiariamo che non è possibile volontariamente recarsi presso l'USCA per sottoporsi al tampone. Chi potrà andare ad effettuare questa analisi, dottoressa? Assolutamente, questa è una cosa che è stata già chiarita anche dal sindaco ieri nell'intervista. Deve passare la richiesta sempre attraverso il medico di medicina generale che valuta i pazienti che devono essere sottoposti al tampone. Quindi la richiesta arriva dal medico di medicina generale all'USCA e ovviamente ci sarà una prenotazione per andare a fare il tampone. Non è che tutti i cittadini salernitani la mattina vanno al drive-in per fare il tampone. Sarebbe assurdo, avremmo poi problemi di tante persone che vanno lì senza una prenotazione. Invece attraverso la medicina generale, lo ribadisco, avvengono queste prenotazioni. E voglio anche ricordare che i medici dell'USCA non sono dei medici che vanno a certificare perché la certificazione avviene sempre attraverso il medico di medicina generale. Quindi l'operatore sanitario dell'USCA valuta la situazione clinica, sostiene il paziente. Questo è un modo per non abbandonare il paziente a casa, specialmente quello asintomatico che molto spesso si è sentito abbandonato.